Eccoci qui signori con l'unboxing e la recensione dello Xiaomi i Camera Partiamo con l'unboxing, abbiamo la solita scatola tipica dei prodotti Xiaomi quindi con dietro qui i vari codici e il codice a barre e qui il logo che come vedete non è MII ma leggendolo in italiano YI questo perché questa action cam è stata fatta in collaborazione con questa marca qua che è una nota marca cinese che produce questi prodotti quindi da questa collaborazione è nata questa action camera che è la prima che la Xiaomi produce quindi andiamo ad unboxare, abbiamo davvero una scatola molto semplice con qui un rivestimento protettivo qui avremo delle pellicole sopra la fotocamera ma comunque cose da nulla andiamo a porla un attimo qui sulla sinistra per tutta la durata del video la chiameremo i Camera o i Sport Camera come volete questo è il nome sotto abbiamo un libretto delle istruzioni anche questo ben incastrato in cinese suppongo sì con la spiegazione ma comunque ve lo spiegherò io come funzionano abbiamo poi qui all'interno se lo apriamo magari nella parte giusta ecco qua abbiamo la batteria eccola qua che è una 1100 mAh in questo sacchetto che all'inizio vi consiglio di caricare e poi abbiamo questo fantastico cavetto che dico fantastico perché ci tornerà comodo quando dovremo collegarla al computer questo perché è piatto, è corto ed si attacca molto bene quindi non c'è bisogno di metterla su una superficie piana per riuscire a tenerla attaccata con questo cavetto ma passiamo al tutto quindi come vedete nella scatola non c'era molto però è tutto quello che ci serve visto che questa action camera si trova in Cina ovviamente per un pezzo di 60 euro se la volete in Italia dovete spendere o dagli store cinesi almeno 80 euro compresa spedizione oppure dagli store italiani direttamente se vi fidate di più per più di 100 euro comunque per quello che la pagate in ogni caso è comunque ottima allora andiamo ad inserire la batteria cerchiamo qui i contatti che vanno messi in basso a destra ecco qua la inseriamo, va inserita proprio in modo unico così da sopra vedete che è rimasto uno spazio andiamo a chiudere per aprire porteremo questo gancetto in giù e si aprirà comodamente poi ripremeremo per chiudere analizzando la camera notiamo subito sulla parte frontale il sensore sony da 16 megapixel con il tasto di accensione e questa queste due figure che ci che ci ricordano cosa può fare questa videocamera comunque ci ricordano che videocamera fotocamera action camera che può fare sia foto che video e video in 16 noni e foto ovviamente in 4 terzi vista la risoluzione del sensore abbiamo sulla parte sinistra se la guardiamo da dietro il tasto per il wifi questo tasto quando lampeggia ci permetterà di collegarci direttamente al telefono perché come vedremo dietro non ci sarà diciamo nessuno schermo quindi l'unico modo per riuscire a vedere quello che vede la action camera è vedere se è da telefono ma ne parleremo dopo di questa connessione abbiamo sul retro un altro led e qui abbiamo uno sportellino e bisogna stare attenti a questo sportellino perché non è attaccato in nessun modo quindi è facilmente si può facilmente perdere abbiamo qui tre cose abbiamo il mini hdmi micro mini hdmi la usb e lo slot per la micro sd che se volete utilizzare l'action camera è d'obbligo ecco qua io ho inserito una 16 giga che basta e avanza perché i video di questa action camera pesano davvero poco qui abbiamo l'alloggio per la batteria come vi ho fatto vedere prima il lato destro pulito sotto abbiamo questo qui che è un aggancio per i cavalletti abbiamo qui quello che è lo speaker che semplicemente ci permetterà di fare dei bip diciamo che sono bip della videocamera quando registra quando si accende cose così qui abbiamo un altro led e sulla parte sopra abbiamo infine il microfono e il tasto per scattare i video e le foto e abbiamo un altro led ancora allora come avete visto questa adesso se ve la accendo che basterà un tocco per accenderla eccola qui quindi quando fa i due bip è accesa come vedete da accesa c'è questo allone blu finchè è blu significa che è quasi completamente carica quindi dall'80 al 100 quando è viola è metà carica quindi attorno al 50 quando invece diciamo è scarica avremo un led rosso allora quello che volevo dirvi dei tre led è che infine sono un led solo perché sia questo che questo qui che questo qua qua sotto svolgono la stessa funzione cioè sono un led unico adesso se sono accesi significa che ci troviamo in modalità video questo l'ho impostato direttamente dall'app perché dall'app come vi farò vedere dopo potrete impostare un sacco di cose allora se partiamo in questo modo quindi con la modalità video se vogliamo andare in quella foto dobbiamo premere questo tasto qui come vedete farà un bip e ora saremo nella modalità foto se vogliamo scattare una foto ci basterà premere questo tasto qui quindi posizionarci per scattarla metterci in questo modo premere al lampeggio avrà scattato la foto quindi vi consiglio di tenerla ferma perché questa action camera è sprovvista di stabilizzatore video però in compenso fa delle ottime foto per costare così poco quindi come avete visto tutto ci è segnalato da dei bip e da dei led se vogliamo ripassare la modalità video ripremiamo qui e saremo ripassati in modalità video quando vorremmo scattare un video o dall'app o da qui premeremo questo tasto come vedete tutti i led lampeggiano al contempo e quindi in questo momento stiamo registrando anche in questo caso non c'è la stabilizzazione ma comunque si può fare in fase di montaggio per stoppare ci basterà ripremere e come vedete tornerà fisso per fare c'è anche un'altra modalità di scatto che però è impostabile solamente dall'applicazione allora passiamo un po' a delle caratteristiche tecniche di questa videocamera di questo sensore più che altro videocamera perché più che altro è prontata a fare video diciamo abbiamo un angolo di visione di 155 gradi contro i 170 della gopro gopro 4 ovviamente e comunque vi dico che questa videocamera va paragonata più alla gopro 3 che non fa la 4 perché la 4 è decisamente superiore comunque abbiamo 155 gradi qualità video fino a 1080p 60fps e il minimo è il 480p 240fps fa anche i 120fps in HD con 120 e 240fps intendo video che è possibile rallentare in maniera molto bella vengono dei video molto belli però a basse risoluzioni è d'obbligo un action camera avere almeno 60fps su qualche modalità perché ovviamente hanno bisogno di raccogliere ogni dettaglio quindi se si muove velocemente servebbe lo stabilizzatore e 60fps come vi ho detto manca lo stabilizzatore abbiamo un sacco di modalità in mezzo tra il 1080p e il 480p abbiamo un sacco di modalità di fps di risoluzione che vedremo dopo sull'applicazione e diciamo come batteria vi ho già detto 1100mAh permette una registrazione di quasi due ore in 1080p 60fps almeno da quello che ho provato io quindi davvero ottimo diciamo che se ve la portate via una giornata non ci saranno problemi ad arrivare alla fine bene questo era tutto quello che avevo da dire come vedete non c'è flash non c'è niente che illumina non c'è nessuno schermo quello che abbiamo sono semplicemente i led abbiamo il microfono che al vento funziona parecchio male diciamo che è praticamente inutilizzabile mentre così normalmente registra davvero bene ho fatto l'unboxing del microfono e l'ho registrato tutto con la ricamera e non c'è fruscio non c'è niente davvero ottimo abbiamo questo supporto qui avremo anche uno scafandro uno scafandro sarebbe quello ad esempio della GoPro trasparente per farla andare sott'acqua perché resiste fino a 40 metri ma non in questa condizione ma quando avremo il nostro scafandro praticamente con quello avremo anche il supporto agli accessori GoPro ma se volete ovviare a questo farò una guida su come trasformare questa action camera praticamente in una GoPro e renderla accessibile a tutti il comparto GoPro i video vengono registrati come vedete a 1080p 60fps con un bitrate variabile che si aggira intorno ai 18MP per secondo c'è un custom firmware perché adesso siamo arrivati alla 1.0.9 i custom firmware e i firmware in generale si installano o da microSD o direttamente dall'applicazione in quel momento non dovrete mai spegnere la e-camera perché si rischia di bricarla comunque ci sono anche delle guide per sbriccare l'action camera dicevo un custom firmware che ci permette di arrivare a 30 Mbps perché i video che produce questa action camera sono davvero piccoli davvero molto ristretti quindi filmando 8 minuti in 1080p 60fps difficilmente supererete il gigabyte forse qualcosa di più che comunque è ottimo considerando quello con cui registravo prima come... cioè... il peso secondo me il peso così piccolo è dovuto al fatto che questa action camera comprime di per sé i video e quindi con questo custom firmware riuscirete a sbloccare diciamo questa compressione quindi per ora è tutto adesso passiamo all'app per telefono eccoci qua signori per l'ultima volta con il 720p di risoluzione perché purtroppo se non posso usare nel telefono la videocamera per registrare che questa diventerà ovviamente la mia videocamera ufficiale se riuscirò ad utilizzarla al meglio per registrare i video quindi andiamo ad avviare l'applicazione eccola qui e-camera si avvierà in questo modo potrete scaricarla sia in cinese che in inglese vi linkerò in descrizione il sito per recuperarla ovviamente in inglese perché in cinese non penso ci capiate molto se in questo caso non siamo connessi a internet comunque avremo un po' di sample video ma cosa ce ne facciamo se abbiamo direttamente la nostra camera bisogna avere attivo il wifi anzi verrà attivato da solo dall'applicazione e per collegarla innanzitutto accendiamo la camera bene eccoci qua i due bip di conferma ci confermano di essere accesa aspettiamo che entri in modalità video da ovviamente il led qua sopra ecco qua ora che è andata facciamo in questo modo andiamo qui e premiamo questo tasto qui bene in questa maniera il led comincerà ad accendersi quando comincerà a lampeggiare e non prima altrimenti il vostro telefono faticherà a trovare la e-camera nel suo range wifi andremo a premere ecco come vedete in questo momento il tastino che sta qui sull'applicazione mettiamoli vicini e aspettiamo un secondo in questo momento ecco si è connessa ecco qua vediamo subito alcune cose di questa applicazione allora innanzitutto ci verrà attivato il wifi del telefono che però non andrà a connessi alla nostra rete ma semplicemente alla camera abbiamo un'anteprima qui di quello che vede la camera ovviamente un attimino in ritardo come vedete si io la muovo c'è un mezzo secondo di ritardo comunque nulla di fastidioso abbiamo un bel range quindi qui abbiamo le tre tre impostazioni abbiamo la batteria della e-camera che è l'unico modo per saperla e vederla ovviamente da qui abbiamo le barrette del wifi cioè se ci allontaniamo troppo e abbiamo la batteria del telefono che anche se è importante abbiamo sopra tre tasti che in realtà sono uno solo in realtà è solo il tasto centrale che ci farà partire una registrazione video in questo caso perché di base è impostata sulla registrazione video sulla sinistra abbiamo la galleria se ci premiamo andremo a vedere tutti i file che sono presenti nella nostra e-camera e potremo scaricarli tramite wifi poi abbiamo qui un altro tasto praticamente sono le foto però per attivarle dovremo sui pare a destra che ci sono gli snapshot come vi ho detto prima solamente a questa risoluzione quindi 4 terzi 640x480 se andiamo ancora in là troviamo il bottone della fotocamera se lo premiamo ovviamente la videocamera scatterà una foto quindi potremo cambiare direttamente le modalità da qui abbiamo anche altre interessanti impostazioni che troviamo però nella scheda per l'appunto impostazioni che mettiamo un attimo da parte per utilizzare questa parte dell'applicazione dovremmo averla sempre collegata andiamo qui in impostazioni abbiamo diverse cose parecchio interessanti visto che quasi tutte si trovano qui abbiamo la qualità dei video e delle foto in generale height normal e low quindi in base a quanto vorrete occupare qui siamo nella parte video abbiamo timestamp quindi se vogliamo nei video la data e l'ora e anche la data e l'ora abbiamo la risoluzione che come vi dicevo prima che è l'unico modo per impostarle andare dall'app quindi se volete cambiarla dovrete tornare sull'app e cambiarla abbiamo il 240 in 480 il 120 come vedete 60 frame 48 frame questi sono i frame quelli a destra il massimo è 1920 per 1080 60 frame in 16 noni in questo caso mettiamo un classico 30 frame quindi video normali abbiamo poi lo standard che è NTSC o PAL abbiamo poi sotto le impostazioni delle foto che come vi ho detto prima è possibile fare solamente in 4 terzi quindi tutte saranno in 4 terzi in base alla risoluzione abbiamo la modalità di base delle foto normal quindi foto normale self timer timelapse e boost questo è il modo in cui si accenderà la nostra e-camera in modalità foto in modalità video anche qui timestamp per mettere nelle foto la data e l'ora abbiamo sotto un po' di switch abbiamo il preview che è praticamente quella che avete visto prima un po' in ritardo per via del wifi auto low light è una un'impostazione della 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 videocamera per adattarsi a condizioni di bassa luminosità loop recording penso sia una serie di registrazioni in loop e lens certification questa è importante se non volete avere di mezzo il grand angolo la attivate e come vedete spariranno i bordi arrotondati quindi sarà una una videocamera normalissima ovviamente non avrete 155 gradi ma di meno andando avanti se mettete questa impostazione auto to non on wifi with device vuol dire che il wifi della e-camera si accenderà con la sua accensione quindi però consumerà più batteria poi abbiamo altre impostazioni come la rotazione dei video emergency backup quindi un backup dei video buzzer volume io ho messo low abbiamo height and mute sarebbe le impostazioni del beep che fa la fotocamera quindi height si sente bene non lo so se siete all'esterno low se siete all'interno come me mute se non lo volete proprio sentire abbiamo poi il led mod abbiamo enable all che sono tutti accesi del disable all sono tutti spenti ovviamente e only light down sarebbero solamente i tre led accesi abbiamo camera clock che è impostato come quello del telefono auto power off vuol dire che si spegne da sola ogni tre o cinque dieci minuti qua abbiamo il modello la versione del firmware come vedete 1.0.9 l'sd card che ci dirà quanto ne abbiamo occupato adesso io l'ho l'ho appena svuotata abbiamo infine il restore factory reset per resettarla di base e find camera è interessante perché se ce l'avete collegata con wifi e non sapete dove lo premete ed eseguirà un beep bene quello che c'era da dire sull'app era praticamente tutto quindi come avete visto questa questa action camera lavora praticamente solamente in accoppiata col telefono quindi questo è sicuramente uno dei suoi difetti il fatto di non essere autonoma ma per cambiare le impostazioni dovremo per forza andare dal telefono comunque in generale la qualità video che adesso vi mostrerò qualche sample e la valutate voi ovviamente come vi ho detto vi farò una guida su come installare il custom firmware e riuscire ad avere una qualità video che in teoria sarebbe il doppio migliore quindi a far sparire diciamo quell'effetto compressione volevo dirvi in generale che i video a bassa luminosità nonostante le impostazioni non sono ancora ben ottimizzati abbiamo un calo di frame e del disturbo video che potrebbe essere fixato in futuro con un altro firmware e invece quelli a luce normale sono davvero ottimi come vi ho detto la stabilizzazione video mancante si sente è conveniente stabilizzare il video in fase di montaggio su Sony Vegas è possibile stabilizzarlo e anche su molti altri programmi di montaggio e comunque non c'è bisogno di esagerare quindi si verrà fatto un po' di zoom però per quello che serve a compensare questa questa action camera davvero non si noterà che è stato eseguito uno zoom quindi nulla di esagerato quindi per i 69 euro che sono andato a pagare questa action camera senza la spedizione a contarla quindi solamente 9 euro in più del prezzo di lancio in Cina è davvero ottima quindi con questa recensione vi lascio vi dirò anche in futuro se ci saranno aggiornamenti del firmware farò sicuramente un video per mostrarveli e mostrarvi la qualità di questa videocamera e ora vi lascio adios che da Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.